Si delinea l'accordo sulle Feste e Sagre Aretine nella Commissione Comunale dedicata. C'è soddisfazione da parte del Comitato Feste e Sagre, mentre da parte delle categorie economiche c'è ancora qualche perplessità. Sia i controlli, sia la trasparenza, non a politica distruttiva e mirata solo al depotenziamento della periferia attraverso l'agnentamento sistematico dei propri eventi, dicono dal Comitato che riunisce le Sagre, sottolineando anche e soprattutto il dato della trasparenza economica. Quest'anno si è deciso di applicare nuovamente lo stesso metro applicato per l'anno 2016 per quanto riguarda il menu delle prossime Sagre, semplicemente perché questa commissione ha già di fatto portato notevoli risultati positivi. Uno tra tutti, molto semplice, è la rendicontazione certificata. Quindi noi abbiamo agli atti oggi che le Sagre nell'anno 2016 hanno prodotto un giro di affari di 600.000 euro. Questi 600.000 euro che fino ad oggi non erano quantificati sono chiari e precisi, sono 170.000 euro gli utili, effettivi, destinati al territorio, al sociale, lo sport e gli altri, i 430.000 euro, non sono evasione, non sono concorrenza, sono fatture che noi paghiamo alle aziende a retine locali. E invece contrario a Confesercenti, c'eravamo lasciati, dichiara Valeria Alvisi, responsabile di Confesercenti al tavolo comunale, con la promessa di eliminare la pizza dai menu. Per noi la pizza non è un prodotto tipico, è la pietanza per attrarre famiglie e far lievitare il numero dei coperti, mettendo in secondo piano la tradizione e la tipicità dei prodotti. Per alcuni può essere una questione di poco conto, ma per noi il non rispetto di un impegno, quello assunto lo scorso anno relativo al problema pizza, significa constatare che non c'è la volontà di fare un passo in avanti nell'evitare che le Sagre diventino dei ristoranti a cielo aperto. Conf Commercio invece alla vigilia dell'approvazione del calendario 2017 di Sagre e Feste si esprime così. Molti degli eventi al vaglio della Commissione non rispettano il regolamento fissato dal Comune, fa sapere la vice direttrice Katiuscia Fei in particolare per quanto concerne il menu, che continua a essere in molti casi onnicomprensivo e a contemplare piatti poco legati al territorio e niente affatto tipici come la pizza. È ora che il Comune non deroghi più alle regole stabilite.